Piero Osilio, DSL Inter, intanto che cosa rappresenta per lei questo premio che arriva dai lettori di tutto il mercato web? È una soddisfazione particolare perché arriva da persone appassionate, so quanto è seguito il sito, lo seguo anch'io, quindi ha un valore ancora più grande perché arriva da persone che comunque sono simpatizzanti del calcio e sono ben informati, quindi vuol dire che sono andati al di là di quello che poi può essere la quotidianità, un direttore sportivo viene giudicato non solo dai risultati della domenica ma anche da una progettualità, da un lavoro e da tante altre cose. Quanto è stato difficile muoversi in questo mercato di gennaio rispettando i limiti del fair play finanziario? Ma è sempre difficile, lo è un po' per tutti, quello è un limite in più che abbiamo e di cui dobbiamo tener conto, però siamo soddisfatti perché abbiamo fatto le cose che avevamo in testa, ci abbiamo messo magari un po' più di fantasia, però quelli erano gli obiettivi e sono stati tutti centrati, io penso che dal mercato di gennaio la squadra ne è uscita assolutamente rinforzata. Qual è stato il colpo più difficile da realizzare? I colpi sono sempre difficili perché anche quello che ti può sembrare più facile e normale presenta sempre delle insidie, a volte sono la famiglia, a volte sono la squadra che ne detiene il cartellino, a volte la concorrenza. È normale che se pensi a Shaqiri, un giocatore che porti via dal Bayern Monaco, con tantissime società, soprattutto quelle inglesi, qualcuna italiana che avevano la stessa intenzione, non può essere facile. Ci siamo riusciti e ne siamo contenti. Adesso il mercato in entrata per l'Inter è chiuso, mi riferisco agli svincolati, ci può essere un arrivo, c'è chi ha parlato ad esempio per la difesa di Diego Lugano. Noi in realtà non siamo attenti più a nessun calciatore sul mercato, non lo siamo più dal 2 di febbraio. La Rosa e la squadra che abbiamo è assolutamente e numericamente competitiva, al di là di qualche infortunio che purtroppo è capitato, però siamo in grado assolutamente di terminare la stagione con i giocatori che abbiamo. L'abbiamo fatto anche valorizzando qualche nostro giovane, Vedi Puskas, Bonazzoli, Don Corr stesso e di questo siamo particolarmente orgogliosi. Icardi può essere un giocatore dell'Inter a lungo per il futuro? Icardi intanto ha un contratto di altri tre anni con l'Inter, è già un periodo medio-lungo questo. Ci sono giocatori che firmano oggi dei contratti e non arrivano a tre anni, quindi il suo contratto, ripeto, che potrebbe anche essere migliorato, allungato, prolungato, sono tutte cose che stiamo discutendo. Non c'è assolutamente nessun fermo, nessun momento di riflessione, perché semplicemente stiamo lavorando con il suo agente da tempo, stiamo cercando di arrivare ad un accordo, io penso che alla fine poi a questo accordo si arriverà, ma fa parte del nostro lavoro, ci sono cose che fai magari in un mese e questa che invece giustamente è una cosa un po' più impegnativa, richiede più tempo, ma sono convinto che alla fine quello che rappresenta la volontà di entrambe le parti che è di prolungare, di stare ancora insieme più tempo, sarà fatta. C'è anche la questione dei diritti d'immagine da risolvere, come potrà essere affrontata, discussa, risolta? Ma guarda, questa dei diritti d'immagine è diventata una storiella così un po' particolare. Noi in realtà, da quando è arrivato il presidente Toir, per un tipo di politica che lui ha chiesto a noi di applicare, prendiamo i diritti d'immagine di tutti i calciatori nuovi, perché è normale che quelli che sono arrivati prima, e quindi i cardi appartiene a quel tipo di acquisizioni, perché Toir non aveva ancora portato questo tipo di politica, oggi richiede un po' più tempo, proprio perché non li avevamo, dobbiamo spiegare perché li stiamo chiedendo, devo essere sincero, c'è stata anche una certa disponibilità e un punto d'incontro su quelli che li abbiamo già trovati, quindi non sono così preoccupato dei diritti d'immagine. Si sta parlando invece di tante altre cose, ripeto, solo il tempo che abbiamo davanti poi dimostrerà che tutto sistemerà. Su Andanovic ci sono segnali positivi per il prolungamento del contratto? Noi abbiamo appena finito un mercato e ora il problema diventano tutti i prolungamenti, anche Andanovic è uno di quei giocatori con il quale abbiamo iniziato a parlare, quando si vogliono fare le cose alla fine si ottengono e si risolvono al meglio. La dialettica, il confronto fanno parte di questo tipo di mestiere, c'è di qua una società, di là c'è un calciatore, c'è il suo agente, richiede il tempo necessario per soddisfare tutte le parti. Dopo la vittoria con il Palermo è iniziata la rincorsa dell'Inter, verso quale è l'obiettivo? La rincorsa dell'Inter è l'Atalanta, ci siamo scottati troppe volte per pensare di avere degli obiettivi o di dover avere dei pensieri a chissà che cosa. Noi vogliamo pensare solo a quello che abbiamo davanti domenica, che è l'Atalanta, una squadra molto forte, che in casa soprattutto e per tradizione ha sempre dato molte difficoltà all'Inter. Lo sappiamo noi, lo sanno i calciatori, lo sa l'allenatore, quindi dobbiamo preparare benissimo questa partita e poi solo dopo penseremo a quello che arriva. Lei tiene molto anche al settore giovanile? Ce la farà vincere il Viareggio l'Inter? Vincere il Viareggio è sempre stata per noi una cosa particolarmente bella e che ha sempre dato tanta soddisfazione. Se i campi fossero migliori e di più qualità probabilmente avremo anche più possibilità perché le squadre tecniche e le squadre con qualità di solito fanno il calcio migliore anche nei campi che te lo permettono. Questo non è di aiuto però cercheremo di passare anche sopra questo problema e cercheremo di fare il possibile per arrivare il più avanti possibile anche nel torneo. Magari con grande protagonista Bonazzoli che è già adesso un protagonista del torneo. Bonazzoli l'abbiamo mandato giù e è andato molto determinato. Sono molto contento perché comunque lasciare la prima squadra a San Siro e raggiungere i compagni e calarsi da subito in una realtà giovanile qual è quella del torneo di Viareggio non è mai facile. Lui l'ha fatto con grande umiltà, grande voglia, è stato subito protagonista e mi auguro lo sarà anche domani insieme ai suoi compagni.